4 novembre 2010, visita in aeroporto. Grazie per aver guardato il video. Grazie per aver guardato il video. Se uno abbia finito i sacchetti d'acqua che hanno, questi possono servire anche da contenitori d'acqua. Questi insalatori ormai ce li abbiamo anche a casa, questo è solo manuale, si mette nell'acqua di mare e produce acqua potata. Non buonissima, ma comunque è poco potata. Mi permette pure, eventualmente, se uno ha fame, di mangiare qualcosa, perché mangiare senza bere fa male. Rischia, oltre ai problemi che ha, anche il mal di pace. E quindi, a parte questo, poi si avvale anche di altri accessori, come per esempio la cassetta di pronto soccorso, che è una delle prime cose, se si è fatto anche male, specialmente se è caduto, che ne so, quando spesso, purtroppo, se si cade in una boscaglia, ora non pensiamo sempre al Salento, però loro vanno in giro in quel mondo, in una boscaglia che si graffia tutto, contiene pomade. Diciamo che è una specie di messa. Si chiama, se non sbaglio, a caudino. Cioè, là sopra ci escono scritti, la velocità, qualunque cosa che sta andando l'aereo. Questi qui si accendono qua. Tu hai visto quelli che c'erano tutti gli strumenti, no? Questi qui invece sono come il computer. Escono tutte le scritte come il computer. Per velocità, ad aiutare a guardar tutto. Allora, allora, allora! Grazie a tutti. Grazie a tutti.